Il Natale Terramano anche quest'anno avrà la pista di ghiaccio in Piazza Martiri della Libertà? Sì, diciamo questa è la prima trattiva che abbiamo anticipato in qualche modo perché quest'anno rispetto agli ultimi due anni possiamo tornare a fare eventi in piazza abbiamo la possibilità di organizzare i concerti come nel 2018 e 2019 e quindi abbiamo anticipato anche la pista proprio perché poi appena dopo Natale riusciremo a liberare la piazza proprio per ospitare questi eventi che stiamo pensando di organizzare Dunque non ci sarà la pista per Capodanno? Non ci sarà la pista per Capodanno ma avremo degli ospiti importanti insomma anche sulla scia di Terramanotur Indomita dei concerti importanti che abbiamo avuto quest'estate vogliamo in qualche modo chiudere questo anno in bellezza ma anche questo periodo del Natale Terramano perché siamo al quinto anno, è una manifestazione che abbiamo organizzato sin dal primo anno, sin dal 2018 e quindi è giusto anche che è stata forse anche la manifestazione che in qualche modo ha ridato la città di Terramani perché ricordiamo tutti insomma le prime luminari il primo stupore della città nel vedere l'accensione l'8 di dicembre Ci sarà anche quest'anno? Sì sì anche quest'anno ormai per noi è una tradizione sempre con un progetto nuovo che sveleremo a breve quindi l'idea è proprio anche di chiudere in bellezza questo periodo del Natale Terramano spingendo al massimo un evento che ormai è entrato anche proprio nei cuori dei Terramani quindi dobbiamo dare il meglio quest'anno, cercare di fare tutto quello che possiamo per dare forza e vita alla città Il Capodanno è pronto? Il Capodanno ci stiamo lavorando, stiamo trattando con un po' di artisti quindi anche questo a breve sveleremo chiaramente i nomi però insomma ecco l'idea è ripeto anche sull'onda lunga di Terramano Turindomida con i concerti importanti che ci sono stati e di avere degli artisti di assoluto livello che possano comunque portare gente a Terramo sicuramente da tutto il centro Italia ma come abbiamo visto quest'estate anche da tutta Italia Grazie